bentornati ad un nuovo appuntamento con enjoy tg l'unico telegiornale del mondo della notte all'interno di enjoy television questa settimana iniziamo parlandovi di sonar 2011 sappiamo benissimo che non è ancora finito il 2010 ma ci portiamo avanti pensando a giugno 2011 16 17 e 18 sono queste le date ufficiali del festival che si tiene come ogni anno a barcellona come sapete sonar unisce musica d'avanguardia con le arti multimediali nel corso del 2011 saranno diverse le città che verranno visitate da questo festival barcellona in primis ma non dimentichiamo la galizia tokyo e londra sono già online in vendita i biglietti per il festival sul sito ufficiale www.sonar.es winter music conference 2011 si avvicina sempre più ormai mancano poco più di tre mesi e se volete essere sempre aggiornati su tutto quello che succederà la winter music conference 2011 dalle feste più belle dei vostri dj preferiti i locali migliori le spiagge più belle e i panels più interessanti che si tengono all'interno della winter music conference vi consigliamo di andare sul sito www.wintermusicconference.com potete iscrivervi gratuitamente alla newsletter di the list e ogni settimana verrete aggiornati direttamente nella vostra casella di posta elettronica sulle novità della winter music conference 2011 se invece siete dei promoter e state organizzando la vostra festa a miami durante la winter music conference potete sempre andare sul sito www.wintermusicconference.com sempre iscrivervi alla newsletter ma in questo caso promuovere la vostra festa all'interno della agenda ufficiale della winter music conference nelle scorse settimane vi abbiamo parlato della collaborazione tra enjoy television e il free press slide il primo dicembre 2010 è uscita l'edizione natalizia di questo giornale con all'interno le pagine dedicate al mondo della notte curate direttamente da noi di enjoy television in questo numero potrete trovare degli interessanti articoli riguardo il capodanno 2010 2011 potrete trovare le ultime novità tecnologiche in fatto di dj e tante altre notizie il mensile slide a disposizione nei migliori locali italiani nei migliori punti di ritrovo in giro per tutta l'italia oppure se volete vedere la versione online andate sul nostro sito www.enjoytelevision.com anche per questa settimana è tutto lo spazio dedicato ad enjoy tg all'interno di enjoy television termina qui noi ci rivediamo la settimana prossima con tantissime news riguardanti il mondo della notte buon weekend a tutti ciao ciao